ciao amici visto che le ho qua faccio una breve comparativa fra due pennini entrambi ms cioè music di sailor solo che il primo questo qua che equipaggia la sailor casual è in acciaio quest'altro invece della pro gear è in oro a 14 carati ma che differenza c'è che cosa cambia lo abbiamo già visto in pennini ben più comuni come per esempio il tratto fine come il tratto extra fine di altri modelli che vi ho presentato nel corso del tempo lo vediamo con un pennino un po particolare che il pennino music stesso inchiostro per entrambi comincio con quello in acciaio questa è la casual ma a me piace già molto è un pennino musicale che offre come avete visto forse in altri video un un bel effetto di sfumature di shading è un pennino che nel suo pieno è abbastanza largo potremmo potremmo accostarlo ad un 1.1 ad un corsivo 1.1 quando andiamo ad usarlo in senso orizzontale come vedete diventa molto più sottile in questo senso ci mette a disposizione una certa variazione che ritroviamo anche nella grafia un pennino che visto che stiamo cercando di fare un confronto e visto che questo qua è in acciaio un pennino che comunque resta un pochettino come posso dire ruvido forse si sente anche dal dal rumore di come scorre sulla carta lo definirei per l'appunto un po ruvido ma ruvido in senso buono non non come difetto e allora visto che ho lo stesso anchiotro anche da quest'altra parte andiamo a provare il pennino invece quello a 14 carati vabbè credo l'abbiate sentito subito con questo giri gol con questa s di sailor come la scorrevolezza sia diversa come sia molto più vellutato più fluido anche questo è un pennino un pennino music qui ci sono due cose che mi vengono subito al dato le sensazioni quali sono la prima è scorrevolezza scorrevolezza e cioè scorre di più è più levigato è più fluido è più morbido vedete che invece la finitura del pennino identica perché sono identici i segni che tracciamo in verticale orizzontale la seconda cosa che si percepisce è la la qualità della scrittura cioè meno fatica e più e più naturale e più naturale e lo capiamo anche dal dalla qualità di sfumature che riesce a mettere in campo non sono di più sono semplicemente migliori e cioè la gamma è un pochettino più ampia il flusso sembra appena più pronto rispetto all'altro come se fosse meglio erogato beh probabilmente l'alimentatore che lo equipaggio è un alimentatore migliore rispetto ad una penna più economica perché sono divise da un prezzo sono divise scusate da una somma abbastanza consistente che insomma va poi a delinearne il prezzo me la provo anche sulla carta favini facendo un confronto inverso questa volta quindi una carta molto liscia abbiamo detto carta favini molto bello questo pennino è questo è quello in 14 carati e quello della pro gear scorrevole belle variazioni che ora andremo ad analizzare più da vicino si sente la qualità questo invece della casual questo è il pennino in acciaio scorre altrettanto bene scusate offre le stesse qualità nella scrittura cioè le sensi la qualità cioè il tratto l'esperienza del pennino musicale è identico musicale però è come se chi ha lavorato il pennino si fosse fermato ad uno stadio di levigatura precedente mentre con quello in oro siamo arrivati allo stadio finale che è il top quello in acciaio si è fermato appena prima gli manca quell'ultima levigatura che lo renda quello che gli anglosassoni dicono smooth questo si sente che aggredisce la carta in maniera un po diversa in conclusione in conclusione io sono grato alla scelta che sailor ha operato e cioè di mettere sul mercato un pennino in acciaio con caratteristiche molto simili a quelle che equipaggiano i pennini in oro perché questo fatto consente a tutti noi appassionati di risparmiare dei soldi ma di approdare la stessa esperienza di scrittura che offre ad esempio in questo caso un pennino ms un pennino music ma altre volte può essere un pennino zoom ad esempio e se notate è difficilissimo percepire la differenza visiva quindi a posteriori tra il pennino music che stiamo inquadrando che è quello in acciaio rispetto a quello che ha lasciato il pennino in oro a 14 carati un pochettino più fluido più scorrevole ecco tutto qua però c'è una bella differenza di prezzo e come sempre allora a voi la scelta cari amici mi compro uno mi compro l'altro insomma dipende anche dalle vostre tasche si intende ma sono due belle penne entrambi il pennino musicale comunque vi darà le stesse sensazioni la stessa qualità di scrittura tanto sull'una che sull'altra come sempre se volete approfittare del dell'iscrizione al canale dal gold pen potrete trovare con questo codice marco chiari sono un trattamento un po particolare nel prezzo quello che è insomma scrivendo che siete per l'appunto degli aficionados del canale ciao a tutti amici e alla prossima